Capotanno a Grosseto ritorna in Piazza Dante e lo fa con il grande show, una serie di eventi che porterà i grossetani dalle 21 fino naturalmente con il brindisi della mezzanotte per augurare alla città un buon 2024. Non vedo veramente l'ora che arrivino le 9 del giorno 31 per poter trascorrere insieme una serata meravigliosa con tantissimi artisti che si alterneranno perché è uno spettacolo a 360 gradi quindi ci saranno cantanti, balletti, ci saranno dei led meravigliosi con videomapping, ci divertiremo veramente tanto, ce n'era anche tanto bisogno perché negli ultimi anni vi ricorderete non avevamo festeggiato in Piazza Dante l'ultimo dell'anno quindi vi aspetto tutti insieme per festeggiare il 2024. La scelta dell'amministrazione comunale, del sindaco, di tutta la giunta è stata proprio quella di ritornare con un grande ultimo nell'anno in Piazza Dante quindi l'invito davvero a tutti i cittadini a partecipare ci saranno momenti di spettacolo, momenti di intrattenimento. È un onore per noi l'associazione grossetana piccola come AFMA che è formata fondamentalmente da giovani maremmani, una proposta artistica che vede spaziare la musica da tutti i generi. Noi partiamo già dalle 9 con un gruppo a retino chiamato Review che promette veramente molto molto bene, ha già fatto tantissime cose importanti anche a livello televisivo. Poi c'è la nostra perla chiaramente della Maremma che è Icons formata da tutti i musicisti maremmani con un corpo di ballo di primo ordine perché comunque amici, X Factor. E poi finiamo con un grande ospite da Radio M2O che è Andrea Mattei.